Dati a Hao e bentornati! Come avete letto dal titolo oggi vi parlerò delle 6 città cinesi più grandi premesso che i dati che ho preso li ho trovati un po' su internet sono comunque aggiornati alcuni al 2017 però può essere sempre in continua evoluzione, vi fa comunque comprendere la densità di popolazione e di conseguenza anche la grandezza delle città. Iniziamo! Al numero 6 c'è la città di Yuan. Dai media stranieri è considerata la Chicago della Cina proprio perché ha un'immensa rete ferroviaria e autostradale. Dal 2001 al 2011 la popolazione è aumentata di circa 10% e nel 2015 la popolazione contava all'incirca 11 milioni di persone. Al quinto posto c'è la città di Shenzhen e è situata a nord di Hong Kong nel sud della Cina. La sua popolazione ha un'età media relativamente giovane di circa 30 anni piccolo numero di popolazione è composto da lavoratori temporanei che fanno da pendolare il fine settimana. Durante gli anni 90 e 2000 è stata una delle città in più rapida crescita del mondo. Questa città comprende 12 milioni di persone. Bah! Al quarto posto c'è la città di Chengdu. Famosa in tutto il mondo perché a Chengdu viene conservato e protetto il panda. Infatti è chiamata la città dei panda. L'edificio più grande del mondo, il New Century Global Center, si trova proprio a Chengdu. Questa città nel 2014 comprendeva 14 milioni e 400 mila persone. Ma nonostante la grandezza è stata definita una delle città più vivibili. Arriviamo sul podio! Al terzo posto c'è la città di Guangzhou. Una volta Guangzhou era un'importante capolinea della via della seta. Guangzhou ora è classificata come una delle città beta più grandi. La città comunque comprende una popolazione fluttuante, ha la forza lavoro altamente mobile. La maggior parte della sua popolazione si trova in aree urbane, mentre il resto si trova nei margini esterni della città e nelle aree circostanti. La città di Guangzhou ha all'incirca 14 milioni e 500 mila persone. Oh, medaglia d'argento va alla città di Pechino! Pechino è la capitale del paese. La città è popolare per i turisti, per la sua vicinanza alla famosa muraglia cinese, così come anche ad altre attrazioni come la città proibita, il Tempio del Cielo e il Palazzo d'Estate. Nel 2008 Pechino ha ospitato i giochi olimpici e nel 2022 ospiterà i giochi invernali. La popolazione di Pechino è all'incirca di 22 milioni di persone. Su alcuni siti però ho letto 24 milioni, altri 22, comunque sono enormi. E al primo posto ragazzi c'è la città di Shanghai, vi stavo anche intrecciando a parlare, la più grande del mondo per quanto riguarda la popolazione. Sebbene la crescita è iniziata all'incirca nel XIX secolo, Shanghai è cresciuta rapidamente negli ultimi tempi, registrando una crescita della popolazione all'incirca del 40% dal 2000. È il centro finanziario e industriale noto per la sua architettura, i templi e i giardini. E il numero di abitanti è veramente qualcosa di impressionante perché è all'incirca di 34 milioni di persone. Perché se voi pensate che la popolazione italiana è all'incirca di 60 milioni di persone, bene, Shanghai ne ha 34, quindi la metà è impressionante. Spero di non avervi spaventati perché sicuramente possono far paura questi nomi, però immaginatevi che anche la Cina ha degli spazi comunque abbastanza grandi. Però comunque io con questo vi saluto, se questo video vi è piaciuto mi raccomando, pollice in su, bye bye!